mi spiace la prima lineata è l'applauso ok allora ragazzi tutti in piedi togli la sedia, chiudi il cerchio ok perfetto allora ragazzi si va un altro giro non si vanno le sedie su una mano destra su una mano destra attenzione attenzione ci sono le sedie bravissimi, un applauso anche per lui naturalmente il tuo compito però rimane ok grazie allora togliamo la sedia chiudiamo il cerchio ok ragazzi siamo pronti a un altro giro occhio vicino grazie a tutti grazie a tutti Dai che ci siamo, non fatevi fregare la segna, mi raccomando, pronti, partenza, via! Che succede, che succede? Un applauso anche per te! Ok, bravissimi! Quanti segni sono due, ma cinque segni, sei concorrenti, e allora dai che si va! Buon attento appena! Non si portano le segni, non si portano le segni, grazie, grazie! Allora, un applauso anche per lei! Tutti i maschietti sono rimasti, vieni, mannaggia! Ok, bene, bravissimi! E guardate che si va, un altro giro! Non si possono toccare le segni, ragazzi, sulle mani, sulle mani! E guardate che si va! I am, un applauso anche per lui! E tu il tasto un po' là, eh! Succede, succede! Il cerchio sempre più pittono, sono rimasti tre segni potro con corretti, e ora dai che si va e si va in squadra sul semifinale pronti ragazzi via applausi per lui e quindi si fa sempre più dura eh sì vediamo un po' il bello è che il primo che è stato eliminato diciamo tra virgolette al giro di prova adesso ha imparato ha imparato la lezione ha detto ma tu non mi pregiamo più bravissimo si parte grazie grazie Filippo e Davide No, ma vero! Tutti questi li danno, eh? No, no, voglio vincere io! Pronti? Guardate, insieme! Per il mio tipo guardare, per il mio tipo guardare continuo! Buongiorno! Buongiorno!